la seconda da Tordivalle, premio Goteborg 10 al via con Niebla Bli Nautilus Jampi Nembo Kid Griff Naomi DWS Norton US Nemov Clouded Neanderjet e Nubigena in prima fila Nike Gare numero 1 a C in seconda favori del gioco in questo momento per il numero 4 Naomi DWS parte discosso dalla macchina il numero 6 Nemov Clouded che di fatto perde la partenza lontano dall'ala anche il numero 8 Nubigena e allo stacco della macchina provano a lottare per il comando il numero 3 Nembo Kid Griff Naomi DWS con quest'ultima che passa quando sono passati appena 150 metri di corsa il primo paletto va in 14 a 7 e c'è il rottura con conseguente squalifica del numero 5 Norton US e poi anche quella del numero 1 Niebla B cavalli che affrontano addirittura per il passaggio quando i 400 metri sono andati in 39 ed è sempre il numero 4 Naomi DWS a condurre davanti a Nembo Kid Griff quindi Nautilus Jampi a seguire Nice Gar poi ancora il numero 7 di Nylander Jet cavalli che hanno passato i 600 metri in 47 e 1 in lunga fila indiana non si muove nessuno con sempre Naomi DWS a condurre e gli 800 metà gara va via sul piede dell'1 4 e 2 con un paletto in 17 abbondanti finalmente si muove qualcosa con il numero 7 di Neander Jet che prova a spostare la corda anticipato da Nautilus Jampi i due provano a far sveltire la cadenza alla battistrada il risultato è un paletto in 16,3 e il chilometro passato in 1,20 e mezzo quando i cavalli stanno per affrontare l'ultima curva il Nautilus Jampi che ha quasi apparigliato Naomi DWS che però riparte c'è poi anche l'errore del numero 10 numero 1 a C Naomi DWS che affronta l'attirittura di arrivo al comando poi dietro c'è ancora Nembo Kid Griff che è l'unico a tenere nella cadenza si è un po' discosta invece il numero 2 di Nautilus Jampi Nembo Kid che prova l'attacco Nembo Kid che va all'attacco di Naomi DWS Nembo Kid Jamp che riesce a vincere sul palo di arrivo battendo Naomi DWS ultimi 50 metri critici per Naomi DWS che ha ceduto così il passo al finale di Nembo Kid che ha aspettato proprio l'ultima metà dell'addittura di arrivo per spostare e sferrare l'attacco decisivo a quella che era stata la battistrada sin dai primissimi metri Vincenzo Piscuolo dell'Annunziata quindi al primo posto con Nembo Kid Griff numero 3 2-6-1 la distanza 1-18-8 la media al chilometro nelle immagini rallentate l'arrivo con la mezza lunghezza di vantaggio per Nembo Kid Griff davanti a Naomi DWS mentre per il terzo posto rimane ancora in quota il numero 7 di Neanderjet che comunque è molto vicino anche a numero 2 di Nautilus Gianfi